discesa tecnica, adatta alle stunt jumper, molto tecnica, divertimento assicurato, tortorelli già in fuga, pane per i suoi denti. Grazie a tutti. Messaggio dedicato agli assenti, vi senti persi un gran giro. Salto. Hop. Zaccaria è un po' lento nel misto perché non ha i cerchi ZTR. Arca. Abbiamo... Un po' lento. Un po' lento. Un po' lento. Grazie a tutti. 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 Tutto sotto controllo, panorama dei colli iberici. No, questa non la farò mai. Facciamo vedere la difficoltà del percorso, molto ma molto tecnico. Il signor Tortorelli dice che non lo farà mai nella sua vita, il signor Zaccaria decide di prendere la bicicletta in mano e quindi io purtroppo dovrò seguire, per non umiliare i miei compagni i miei compagni, seguirò le loro, un attimo che sto per cadere, molto impegnativa ma anche a piedi direi. grande, 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 grande Bettini. Un po' di bollarello dietro il culo ma ce l'ho fatta. Un po' di bollarello dietro l'acqua. Ehi, po' di bollarello dietro. Non ci sono le mie compagni. Un po' di bollarello dietro dopo le luci, molto pali. E quindi non ci sono le mie compagni. Come? Come? Grazie a tutti Grazie a tutti